È assurdo, è veramente assurdo. Ragazzi, bisogna reagire. La maggioranza che sostiene la Meloni, il partito della Meloni, ha scelto di cancellare la 18-up. È folle! Quella misura lì che avevamo voluto noi e che ci hanno copiato in Francia, in Spagna, in Germania, permetteva e permette ancora adesso a quelli del 2003-2004 di entrare dentro una libreria, di pagarsi un concerto, di andare a teatro. Cancellare sulla cultura è sbagliato perché uccide l'idea di futuro. Allora non rassegniamoci. Io farò tutta la mia parte, noi faremo tutta la nostra parte, arrivando persino all'ostruzionismo in Parlamento contro questa scelta. Ma anche voi fatevi sentire, firmate la petizione, fatela girare. Diamo a tutti un messaggio che la cultura è il nostro futuro, che non si può tagliare e che non si può cancellare la 18-up. Fate girare, facciamoci sentire.